La finestra è aperta sull'orto, la lampada fa chiaro da sinistra come consigliano gli opulisti e sul foglio immacolato la penna va su e giù facile, senza rimorsi, il polso che la incalza, la mente che la governa paiano a lacri ben disposti, quando ecco nel silenzio della mezzanotte una domanda rintocca di colpo nelle orecchie, un'interrogazione povera e febbrile, perché? Perché si scrive, mi chiedo? Perché ci si affanno a tessere sogni e raggiri, si dà corpo a fantocci, fantasmi, si fabbricano babilonie di carta, si inventano esistenze vicarie, universi paralleli, bugiardi, mentre fuori così plausibile piove la luce della luna nell'erba e i nostri moti naturali, le più immediate insurrezioni dei nostri sensi ci invitano al gioco affettuosamente, divinamente semplice della vita, la vita che è innamoramento impulsivo di se stessi, credulo abbandono alle quattro dorate, virgine, felici stagioni. Scrivere insinua la voce, non significa solo adulare i minuti con la cosmesi dell'immaginario, ma nutrirli dei nostri escreti mentali, addobbarli viziosamente delle nostre maschere nere. rappresenta dunque in qualche modo una colpa, forse macchiarsi le mani d'inchiostro è come macchiarsele un poco di sangue. Uno scrittore non è mai innocente, non solo, ma nell'atto stesso in cui un autore si umilia alla superbia di dire io. Come fa a non sentirsi inerme, spogliato, simile a una recluta nel mattino della visita di leva? No. Non assume forse ogni sua parola ai colori lividi di una delazione imperfetta. Non trasuda i sudori, le cipre a biette di uno spogliarello tentato e mancato. Starsene sul palcoscenico, nella bacinante fulmine dei riflettori, non diventa a lungo andare un'intollerabile gogna. Il silenzio, invece, la perfezione, la sepsi, l'impunità del silenzio. Poter assistere alla vita dal proprio loggione piuttosto che recitarla, tra tanti che smaniano di arrivare, scegliere di non partire. E poi dal momento che il pensiero, come le onde davanti a quel cimitero marino, ricomincia senza posa, perché ostinarsi a volerlo pietrificare nei freddi piombi di Gutenberg? Veramente ogni libro stampato è una bara. Lusinghevole discorso converrà a ribatterlo punto per punto, anche se metà di me gli dà oscuramente ragione. Afferma Monterland che pubblicare un libro è come parlare a tavola in presenza della servitù. Il bello è che, per poterlo affermare, egli deve ricorrere a un libro. Tanto è rischiosa e plurima la natura della scrittura. Al punto che perfino chi si affeziona alla segregazione e non sopporta altra aria che non sia quella del carcere, chi si fa obliquo, vuoi è di se stesso, con uno specchio in mano e uno dietro le spalle, nemmeno costuma, resiste alla tentazione di raccontare al mondo il suo narciso piacere e le mille soddisfazioni dell'ammutinamento. Dopotutto, nel racconto di Nathaniel Hawthorne, Wakefield alla fine ritorna a casa. Questo vuol dire che si scrive per popolare il deserto, per non essere più soli nella volutà di essere soli, per distrarsi dalla tentazione del niente o almeno procrastinarla. La somiglianza della giovane principessa delle mille e una notte. Ognuno parla ogni volta per rinviare l'esecuzione, per corrompere il carnefice. Morte e scrittura, quindi. Ecco una connessione cruciale. Ha ragione Blanchot. Si scrive per non morire. Ecco, in questa vita si scrive per non morire. Sì, in questa vita si intende. Non in vista delle comiche immoralità sognate da romantici classici alle quali nessuno più crede. Più avanti si va nei secoli, più la polvere cresce sui gonfi scaffali e nessuno si salverà. Andiamo, è sicuro, andiamo verso una civiltà di nuovo orale. Fra diecimila anni la biblioteca ad Alessandria sarà stata bruciata innumerevoli volte. Si dovrà per questo reprimere la ovvia comune volontà di durare? Riconosciamolo. Si scrive specialmente per essere ricordati e per ricordare. Per vincere entro di sé l'amnesia, il buco grigio del tempo, affidarsi alla pagina, come alle bende, ai balsami, la mummia di un faraone. No, 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 no. Io non conosco altro modo che consenta il miracolo del bis, il bellissimo riessere, 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 questo, riessere, questo è il problema. Ho sussurrato una volta parodiando umilmente Shakespeare e so che è una fuga in prigione, una vittoria perduta. Ma sì, ma anche l'unica strada, benché precaria, illusa, che ci scampi un istante dalla maledizione di Eratrito. Si scrive per ricordare, ripeto, sì, ma si scrive anche per dimenticare, per rendere inoffensivo il dolore, biodegradarlo, come si fa con i veleni della chimica. Può essere una vernice la scrittura che cianodizzi i sentimenti e li protegga dalle salsedini della vita. Qui un altro nodo emerge, medicina e scrittura, che può tradursi in modi più spicci. Scrittura come analgesico, come palliativo e placebo. Quando si tenga conto del margine di frode pietosa, che sempre inerisce a una consolazione del genere. Ma non si scrive anche per essere felici. Il leopardi lo attesta. Felicità da me provata nel tempo del comporre, il miglior tempo che io abbia passato in vita mia e nel quale mi contenterei di durare finché vivo. Passar le giornate senza accorgermene e parermi le ore cortissime e meravigliarmi sovente, io medesimo, di tanta felicità, di passione. E sentiamo Cesare Pavese. Quando scrivo qualcosa e do dentro, sono sereno, equilibrato, felice. Andiamo avanti. Si scrive per far testamento. Io, legato testamentario, l'ho fatto. Testamento, testimonianza, hanno radice comune, si sa. Scrivere vale dunque redigere una deposizione a futura memoria, come quelle che si lasciano ai giudici, perché ripetano dopo la morte la nostra parola. Pronunziare ogni parola come se fosse l'ultima, ha detto Elia Scanetti, ed è una bella e solenne definizione della scrittura. Si scrive per giocare, perché no? La parola è anche un giocattolo, il più serio, il più fatuo, il più caritatevole dei giocattoli adulti. Si scrive per scongiurare, per evocare. Ho imparato ragazzo da un affabile maga, che graffire su un muro quattro nomi di diavoli. Furcu, rifurcu, lurcu, cataturcu. Bastava a farli apparire. E una sera ci provai. E si scrive per battezzare le cose. Chi le nomina le possiede. Esiste solo chi ha un nome, l'innominato e nessuno. Nelle teogonie primitive il Dio è soltanto se ha un nome. Si scrive per surrogare la vita, per viverne un'altra. L'arte in quel caso diventa, se il visticcio è lecito, un arto. L'arte, un arto. Un arto artificiale, la protesi di una vita non vissuta. Forse è così che l'arte è cominciata. Quando un cavernicolo in un angolo buio, dove sarebbe accorsa una torcia per scoprire le sue pitture, dipinse uccisa la bestia che bramava di uccidere, esercitando quindi una pratica magica, ma soddisfacendo altresì un'attenzione, come avviene a chi sogna e a chi si innamora. Sì, sì. Perché si scrive, anche per persuadere, amorosamente sedurre, chi scrive in treccia con chi lecce una guerra d'amore, una complicità invidiosa, una clandestina intesa di peccatori, a volte associandosi con lui per delinquere, a volte odiandoli come un rivale. Eh sì, si scrive per profetizzare. Non accade spesso, ma accade che su una lavagna cieca, mencerebbe aldassarre alla frutta una mano tracci misteriose parole. Si scrive per rendere verosimile la realtà. Non so degli altri, ma io sono stato sempre colpito dalla inverosimilianza della vita. Mi è parso sempre che da un momento all'altro qualcuno dovesse dirmi basta così. Basta così. Non è vero niente. Allora io penso che si debba scrivere per cercare di crederci. È questo impossibile? È credere a questo impossibile? È riuscito colpo di dadi. Che si debba, se l'universo è una metastasi folle, un po' fingere di mimarla, un po' cercarvi un ordine che ci inganni e ci salvi. Questo mi pare il compito civico e umanitario dello scrittore. Farsi copista e insieme legislatore del caos, guardiano della legge e insieme turbatore della quiete. Un ladro del fuoco che porti fra gli uomini il segreto delle ceneri. Un confessore degli infelici. Una spia sacra. Un Dio disceso a morire per tutti. Ciò non vuol dire che scrivere è uguale a pregare, forse. Tante sono su per giù le ragioni per scrivere. Una di più, ma forse una di meno non ho contato bene. Delle ragioni per tacere per sempre.